buongiorno amici e amiche di nova news 24 questa sera una nuova eliminazione al grande fratello beatrice rischia davvero al televoto come è stato scritto andiamo a vedere cosa sta in realtà succedendo intanto beatrice condivide il rischio eliminazione tra i nominati di stasera con stefano federico sergio e marco attenzione perché già ci sono le percentuali che dicono chi in realtà uscirà beatrice rischia davvero come è stato scritto amici di nova news 24 intanto sembra proprio che i sondaggi dicano tutt'altro però a volte i sondaggi possono sbagliare ma non siamo sicuri che questa volta sbaglino perché beatrice luzzi sembra sempre la preferita ancora una volta ottiene il 50 per cento nei sondaggi intanto secondo classificato quotato per il salvataggio al 20 per cento marco maddaloni terzo posto per sergio d'ottavi votato al 18 per cento quarta ed ultima posizione per stefano miele federico massari che massaro che in questo televoto hanno un exequo al 10 per cento vi andremo a leggere nel prossimo articolo gli altri sondaggi che sono arrivati ovviamente questa mattina perché stasera c'è la puntata chiaramente la sola messa in onda della nuova puntata può confessare una nuova realtà in tutto in parte il risultato potrebbe essere cambiato ma non sappiamo e non siamo sicuri che questa volta siano o sergio oppure federico oppure stefano a rischiare potrebbe essere anche marco maddaloni che non è stato ben visto dal pubblico proprio quando si è messo contro beatrice intanto amici di nova news 24 sulla scia di un nuovo clamoroso colpo di scena vi chiediamo cosa ne pensate voi di quello che sta succedendo secondo voi beatrice luzzi rischia davvero l'eliminazione intanto vi diciamo che in realtà solo una coalizione che potrebbe prendere parte tra tutti i concorrenti potrebbe mettere veramente in crisi beatrice diciamo che letizia petris con paolo masella sono acerrimi nemici ovviamente di beatrice in queste ultime puntate stanno utilizzando una strategia che è stata dettata proprio da alfonso signorini andare in pace anche per la stessa non è ovviamente contenta della relazione che ha con beatrice però chiaramente sta cercando di fare l'amica in qualche modo per cercare di tenersi buono tutto il suo pubblico e forse se arriverà un'eliminazione a catena quelle che si facevano una volta al grande fratello potrebbe essere veramente la volta è l'unica forse l'unico caso in cui beatrice potrebbe davvero uscire perché altrimenti veramente è sempre prima in tutti i sondaggi intanto amici di nova news 24 diteci cosa ne pensate voi di questa situazione se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci su nova news 24